E' di oggi pomeriggio la nuova allerta meteo con criticità arancione firmata dal sindaco Fabio Termine. Il provvedimento contiene tutte le raccomandazioni del caso nei confronti della popolazione. L'allerta meteo rossa è quella in vigore fino alle 24 di stasera, mentre quella arancione scatterà alla mezzanotte di stasera e rimarrà in vigore fino alle 24 di domani. Nel momento in cui stiamo andando in onda non è prevista alcuna chiusura delle scuole. Una decisione in tal senso non è stata assunta. Evidentemente la protezione civile comunale intende monitorare l'evoluzione delle condizioni meteo e eventualmente decidere nella tarda serata. I rischi idrogeologici con l'allerta arancione non sono assolutamente trascurabili. Si confide naturalmente che le previsioni rese note dal Dipartimento regionale non si concretizzino come d'altronde è accaduto stamattina quando la pioggia, sebbene intensa, non ha suscitato per fortuna preoccupazioni né tantomeno generato conseguenze. Sono previste precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi accumulati da deboli a puntualmente moderati. La protezione civile nel caso di eventi meteorologici di particolare intensità consiglia ai cittadini di non sostare sui ponti o lungo gli argino le rive di un corso d'acqua in piena, di non sostare nei luoghi e nelle aree dove sono presenti alberi ad alto fusto a rischio caduta, di non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale, ciò è riferito anche alle automobili, di non allontanarsi durante i fenomeni di precipitazione delle proprie abitazioni se non per motivi strettamente necessari, di mettere in salvo tutti i beni collocati in locali allagabili e porre al sicuro la propria automobile evitando la sosta nelle zone più a rischio, evitandone l'uso se non in caso di necessità, di non tentare di arginare la massa d'acqua spostandosi ai piani superiori, di non sostare in aree soggette a desondazione o allagamenti anche in ambito urbano, di evitare il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte da allagamenti, soprattutto nelle zone delle vie Lido, Dante Alighieri, Giulio Cesare, zona vicino alla foce del torrente Canzalamone, località stazione nei pressi della foce del torrente Canzalamone, via Cristoforo Colombo, via Eleonora d'Aragona, via Caricatore, via Porta di Mare, strada di collegamento tra la località stazione e la statale 115, Contrada Foggia, collegamento torrente a foce di mezzo, Contrada Carbone, Contrada Bellante, località Renella e tratti di via Ghezzi, foce del torrente Bagni, via Sant'Agata dei Goti, via del Pellegrinaggio, via Melfi e via dei Limoni, nella Contrada Sabella, nella Contrada San Giorgio, Timpirussi, nelle Contrada Fontana Calda, Loco Grande, Saraceno, Salinelle, località Verdura, nei pressi del fiume omonimo. Viene raccomandato anche di non spostarsi durante i fenomeni temporaleschi dai luoghi dalle zone ritenute più sicure.